Sarà possibile effettuare le vaccinazioni per tutti coloro i quali hanno già fatto la terza dose e rientrano nelle categorie per le quali è possibile avere somministrata la quarta. Sono tutti coloro i quali hanno più di 80 anni, dunque gli over 80, gli ospiti dell'RSA, gli over 60, con elevata fragilità, saranno somministrati negli hub della provincia i vaccini a mRNA. Una delle condizioni fondamentali è che sia trascorso già un intervallo minimo di 120 giorni dalla terza dose. Al momento l'indicazione alla quarta dose non si applica ai soggetti che abbiano contratto l'infezione da Covid-19 dopo la somministrazione della terza dose.